Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del superperito, l'ingegnera Migliorino che vediamo proprio lì, sul punto in cui la sera del Teo Tobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus. Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei tre indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i due dirigenti del comune, Di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è scritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne.